Intorno a lui c'erano una mamma, un papà, due zii, sei nipoti e qualche amico di famiglia. Tutti piangevano o stavano per piangere o avevano appena pianto. Tranne io che sono il nipote più piccolo, ho sette anni e mi chiamo Mattia. Allora, andiamo. E dove, nonno? A passeggio. Facciamoci un bel giro di quelli che ci piacciono. E cosa dico alla mamma? Se facciamo piano non se ne accorgerà nessuno. Nonno, è una nave di pirati. Vieni verso di noi. La nave sembrava lontana, ma era vicina. Era una nave piccola. Siamo arrivati. Il nonno seduto dietro era diventato ancora un poco più piccolo. Forse ora più piccolo di me. Grazie. 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 Grazie.